Ciao a tutti ragazzi, siamo JamesGamesTube, io sono GabbielPro in compagnia di... Nicolo! E abbiamo aggiunto alla nostra casa le finestre come ci avete scritto nei commenti E questo è il secondo episodio della nostra serie di Minecraft Survival E in questo video creeremo una casa sotterranea per spostare varie cose dalla nostra casetta Che è piccoletta Poi ti ho già preso un po' di roba Abbiamo già creato il buco, ora lo addobberemo Lo addobberemo in questa... L'abbiamo grado off camera perché comunque l'arriamo tagliato, è una cosa troppo noioso Sì, è noioso quando crei... Infatti, siccome l'arriamo tagliato ho detto... Ora decoriamo la nostra casa sotterranea Sarà un piccolo video questo Ormai... Tanto dopo questo video ce ne sarà subito un altro Che... Megacraft Tu dici che bello, che bello... Va bene Gabriel, però un po' di novità da ieri intanto E sì, vi voglio dire che il canale Gems ha deciso di caricare questi video Cioè i nostri video esclusivamente il martedì, il giovedì, il sabato o la domenica Quindi se volete vedere i nostri nuovi video Ehm... Controllateci in uno di questi quattro giorni Poi vi voglio avvisare anche che domani... Cioè oggi caricheremo questi due video Questo qua della casetta Sotterranea Ehm... Di noi due Di me e Nico che giochiamo Di Bertene di Nicolo a Casone Ottimi piedi E... E noi due che giocheremo a sopravvivenza in survival E domani Caricheremo quel video Che andremo in visita della grotta Ora facciamo una torre Ok, ora facciamo una torre Così quando andremo a prendere del cibo o qualcos'altro E la ritroveremo a casa subito La facciamo piccola però Abbiamo fatto la nostra torre gigante Per riconoscere subito Quando andremo a prendere qualcosa E ora finiamo di addobbare Nostra casa sotterranea Adesso a Nicolo Gli è venuta questa straordinaria idea Di incidere le nostre lettere Iniziali Con la pietra La giro la faccia brutta E la faccio giù Fala qua Wow Bellissimo Faccio qua Per quanto un po' più le braccia Taglia quel pezzo Taglia quel pezzo sopra Qua è questo? Sì Perché? È brutto Poi taglia quel pezzo sotto? Sì Perfetto Gn Ecco qua Ecco qua E ora vai a dormire prima che arrivano i zombie Che vuoi scrivere? G E N Se è così Stai registrando vero? Sì No Andiamo in casa E finiamola di decorare Ma che manca scusami Che ne so I cosi per Per il coso I cosi per il coso I fornelli Ah le fornaie Ah c'è Fertutto Sì Eh Sono geni Gli amare proprio Esatto Ok abbiamo aggiunto anche le fornaie Fornaci Per fondere il I varie I varie getti E possiamo dire Che è finita Abbiamo finito la casa Anche il video E quindi Se vi è piaciuto questo video Lasciate un bel pollicione in su Iscrivetevi al nostro canale E Vi consiglio Di Di controllare Quindi il nostro canale In quei quattro giorni Che vi ho citato prima E Noi ci vediamo Praticamente Fra poco Perché Fra Due orette Penso Sì Sì Faremo Un altro video E domani Caricheremo La visita Alle Alle Alla grotta E Noi ci vediamo Nel prossimo video Bella ragazzi Noi ci vediamo 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 Grazie.